Stai più con il vento? Ok, ok. Ci siamo? Guarda a vedere i bambini che stanno facendo. I bambini che si guardano qua, qua non ho il video che è il controllo. Allora, vedete. Qua è l'ultimo che stiamo facendo dentro. No, vedete, vedi, stai filmando mentre... Decido pure quando vuoi filmare oppure no. Ora è una camera, capito? Guarda, è un ufo, un alieno che sta arrivando. Poi ci vediamo voi, quando io. Allora, è un padre. Allora, è un padre. 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 Sì. Ciao Nall'Alto! Buon Natale!